La morte è a conseguenza del peccato e che non c'è soltanto la morte corporale, ma c'è anche la morte dell'anima, c'è la morte eterna e quindi abbiamo cercato di riflettere un po' circa di quale morte ci preoccupiamo di più. Oggi vedremo che c'è un vincitore della morte, che è il nostro Signore Gesù Cristo, che ha vinto la morte e ha vinto anche il peccato, ha vinto anche la causa della morte e che l'ha vinte tutte le morti, ha vinto la morte corporale, ha vinto la morte dell'anima ha vinto la morte eterna, ha potere sopra la morte e sopra gli inferi, sopra lo Sheol e rende vincitori della morte tutti coloro che lo accolgono, accolgono la sua salvezza, vivono con lui, perseverano nella fede, si schierano con lui. Direi di andare subito a vedere i brani biblici che sintetizzano, ovviamente non sono tutti, ma ci danno un po' una visione complessiva della vittoria di Gesù sulla morte e che sono ebrei 2.14.15, primo corinzi 15.3 e romani 5.17.21. Li andrei subito senza troppo indugiare a leggere. Cominciando da ebrei 2.14.15, che è un passo veramente fondamentale, ops, eccolo, e che dice così, leggo la traduzione chiaramente della Shei del 2008, poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Questo è il primo brano. Secondo, primo corinzi 15.3, poi li commentiamo. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi a Tudici, in seguito apparve più di 500 fratelli in una volta, e in seguito, ultimo fra tutti, apparve anche a me come un aborto. Infine, Romani 5.17.21 Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato, a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevano l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo dello solo Gesù Cristo. Perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regna anche la grazia con la giustizia, per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ora, questi brani sono una sintesi, ripeto, non esaustivi, di quello che è stata l'opera di distruzione della morte e del peccato operato da nostro Signore Gesù Cristo. Cosa ha fatto Gesù fondamentalmente? Adesso poi lo andremo a vedere, no? Dettagliatamente. E' morto, ha subito la morte corporale. Lui, l'innocente e quindi l'immortale, sia come uomo non peccatore, ma sia anche come Dio fatto uomo. Non rifletteremo mai abbastanza sulla morte di nostro Signore Gesù Cristo, quindi su quello che Lui ha passato per noi. e come era necessario che Lui vivesse questa cosa perché la potesse distruggere dal di dentro. Stasera capiremo attraverso questa catechesi un qualcosa di quello che si è inventato nostro Signore per la nostra redenzione. Perché, come dice San Pietro, noi dobbiamo essere in grado di saper rispondere della nostra fede, anzitutto a noi stessi e poi anche agli altri. Cioè, tu chiediti un attimo una cosa. Perché il nostro Signore Gesù Cristo ha sofferto ed è morto? Era proprio necessario. Perché Dio non fa cose inutili. Amici, per molte persone il nostro Signore Gesù Cristo oggi, e non vorrei che ci fosse anche qualche battezzato o addirittura qualcosa di più di battezzato e non aggiungo altro, per molti il nostro Signore Gesù Cristo diventerà semplicemente un personaggio inutile. Perché se, capite, se noi non conosciamo senza la conoscenza e la comprensione della conoscenza non ci può essere nulla, no? Cioè, noi al catechismo abbiamo insegnato la tiritera, no? Quindi la formuletta che poi una volta si impara a memoria, poi si impara a memoria, così c'è più manco questo, cioè che il nostro Signore è morto per salvarci dai nostri peccati. questo più o meno cioè una 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 riminiscenza di una frase di questo genere dentro le teste ci dovrebbe stare, no? Ma il contenuto perché ha dovuto morire per salvarci dai nostri peccati? Morire, la morte corporale, perché? La fede risponde a queste cose, eh? Perché Dio non fa cose inutili, né fa cose a vambera o a casaccio, Dio fa cose santissime, non soltanto le cose santissime, fa, l'abbiamo già visto, credo, in questo ciclo di catechesi, fa le migliori che si possono fare. quindi questa è la domanda che dobbiamo porci. Come mai? Gesù è morto? Allora, la rivelazione del Nuovo Testamento, quindi sintetizzata in questi brani che abbiamo visto, sintetizzata, ce ne sono tantissimi, questi sono scelti, anche perché citati nel Catechismo della Chiesa, un po' come brani emblematici, no? Perché la lettera agli ebrei mostra che la morte è stata la vittoria sulla morte corporale e sul Signore della morte, perché c'è un Signore della morte, che è il diavolo. La lettera ai Romani mostra come tutti siamo stati soggetti in Adamo alla legge del peccato e quindi della morte, il peccato aveva regnato con la morte e adesso che succede? Adesso regna la grazia, non il peccato, con la giustizia per la vita eterna, che certamente comincia qui, non ci esimerà dal passaggio attraverso la morte corporale, ma bisogna vedere che cosa sarà la morte corporale, l'abbiamo già visto la volta scorsa, perché la morte corporale per un figlio di Dio è come quando noi ci separiamo da qualche persona amata, ma non vediamo l'ora che ritorna, no? Voi immaginate una persona che ci ha avuto la grazia di vedere, che ne so, Gesù Cristo o la Madonna che poi a un certo punto non lo vede più. Non immaginate che questa persona starà tutto quanto il giorno, tutta la vita aspettando il ritorno, no? E quando ritornerà, diceva, finalmente non ce la facevo più, ma per noi la morte è questa, cioè noi torniamo a casa, anzi finalmente arriviamo a casa, torniamo nella patria, perché qui ci abbiamo avuto, come dire, dei piccoli assaggi, si abbiamo vissuto in grazia, no? Quindi molto, molto riflessi, molto imperfetti, ma come ho detto una volta scorsa, cioè fermo restando che noi siamo amanti della vita, che fermo restando che dobbiamo sempre avere l'umiltà di dire, se moro troppo presto, cioè forse pure desiderarlo, ma chi l'ha detto che vado in paradiso, se poi mi devo fare un sacco di purgatorio, perché siamo sicuri che ho riparato tutti i peccati che ho commesso, che li ho espiati sufficientemente, quindi che ho fatto abbastanza penitenza, che li ho pianti abbastanza, che ho un buon bagaglio di buone opere, quindi questo ci fa temperare un po', ma di fatto supponiamo che tutte queste cose stessero in regua, ma uno fa contare la rovescia, il countdown, perché noi non siamo stati fatti per questo mondo? Qui in questo mondo abbiamo una conoscenza molto limitata e perfetta dell'altissimo, ecco, però se il nostro signore non moriva, amici miei, stiamo tranquilli che in paradiso non ci andava nessuno, ma sapete che nessuno è? Chi conosce gli scritti della serva di Dio, Luisa Piccarreta, c'è un passaggio straziante, commovente, nella diciassettesima ora della passione, che questo anche chi non conosce gli scritti di questa grande anima, sarebbe assolutamente raccomandabile, dare un'occhiata a questo piccolo capolavoro, le 24 ore della passione, che non soltanto descrivono le ultime 24 ore della vita terrena di Gesù, ma ce ne rendono in qualche modo partecipi. Nella diciassettesima ora c'è un dramma, quando Pilato presenta Gesù alla folla, che quelli gridano crocifiggilo, chi vuole un pochino di bene al signore, anche quando sente durante le domeniche della passione, la lettura di queste cose, dice, se ci fossi stato, io avrei detto liberalo per carità, liberalo, ma amici miei, se fosse stato liberato sarebbe stata la fine. E infatti, dentro questa drammatica ora, dice, sì, è la folla che vuole uccidere Gesù, certo, ma il padre dice, io ti voglio morto e morto crocifisso. E udite, udite, la Madonna dice, io ti voglio morto e morto crocifisso, che per lei era, cioè, non ci poteva essere una cosa peggiore pensabile e immaginabile. E a un certo punto quella parola dice, mi sento mossa da una, da una voce invincibile che mi fa dire anche a me, ti voglio morto e morto crocifisso, però fammi morire pure a me. Dice, e allora la folla, e Gesù spiega, ci sono due modi di volere la mia morte, quello della folla inferocita, per loro la mia morte sarebbe stata la loro morte eterna, perché questi mi vogliono morto per odio, ma quelli che mi vogliono morti perché stanno imbarazzati, cioè, noi siamo, noi siamo, cioè, capite il dramma, tanti esseri umani, veramente, che hanno, abdicato al dovere di pensare, l'abbiamo già visto anche la volta scorsa, capite in che razza di situazioni, noi siamo schiavi, cioè, se qualcuno non ci tira fuori, è la fine, gli uomini sciocchi, non ci hanno mica idea di chi siamo schiavi noi, se Gesù non fosse morto, noi siamo tutti schiavi di Satana, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, e non è terminologia obsoleta, un bambino appena nato è schiavo di Satana, perché c'è il peccato originale, se muore non andrà all'inferno, col peccato originale non andrà all'inferno, ma non vedrà Dio, perché non a caso, e non per nulla fu detto, e lo vedremo in questo ciclo di catechesi, per quelli che pensano che il limbo non esiste, se non si rinasce da acqua e da spirito, non si entra nel regno di Dio, e chi ha detto queste cose, non è uno che parla a vanvera, perché il nostro Signore Gesù Cristo non parla a vanvera, quindi quando si fanno delle affermazioni, anche dotte, derudite, perché oggi va di moda a scrollarsi di dosso le cose passate, il limbo non c'è neanche scritto bene nella Bibbia, quindi queste sono tutte quante cretinate, c'è la misericordia di Dio, ti pare che un bambino che male avrà fatto, scrolliamocelo di dosso, sì eh? E questa cosa che ha detto il nostro Signore, che cosa ci facciamo? Che facciamo? La togliamo dal Vangelo? Se uno non rinasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio, non può vedere il regno di Dio, e allora? E quando poi al peccato originale ci si aggiunge il peccato attuale, grave, attenzione, cosa che senza la grazia di Dio e senza la redenzione è impossibile evitare, cioè nel mondo, questo mettiamocelo bene in testa, non esiste nessun essere umano che possa dire io non sono peccatore, non solo perché sono andato col peccato originale, ma per quello che ho fatto, e ne basta uno di peccato grave, per cadere in schiavitù, stavolta volontaria, di Satana, e capite, cioè quando uno cade in schiavitù, così capiamo anche, cominciamo a capire anche la dinamica di come si affina nell'inferno, la schiavitù, allora la schiavitù di cui si parla qui, la schiavitù del peccato è simile, l'altro ieri è stata una, bellissima memoria mariana, di Santa Maria della Mercede, che pochi capiscono che che cos'era, San Pietro Nolasco, e come San Raimondo de Pegna, forte mi sembra che era, credo di sì, ispirati dalla Madonna a fondare un ordine che era dedicato alla liberazione dei cristiani, caduti in schiavitù dei pagani, a seguito della guerra, una volta si diventava schiavi, per questo motivo, perdevi la guerra, perdevi una battaglia, i prigionieri venivano ridotti in schiavitù, erano gli schiavi di guerra, e chi li libera? Ci vuole qualcuno che li vada a liberare, attenzione, noi tutti siamo schiavi di guerra, perché il diavolo ci ha vinto, ci ha fatto cadere in Adamo, e se tu una sola volta gli dici amen ad una sua lusinga e tentazione, ti ha vinto, e una volta che quello ti mette le grinfie addosso, provaci a liberarti se sei capace, prova, vai a chiedere a qualcuno che sta lì, ma voi pensate che le anime dannate, ma non vorrebbero uscire dall'inferno, ci restano volentieri, ma non possono, non possono perché? Perché i demoni non li faranno mai uscire, e la loro forza è superiore a quella delle anime, la loro violenza non è fronteggiabile, e lì rimani quindi, non so se mi spiego, ecco perché bisogna dire ti voglio morto e morto crocifisso, perché se non muori tu, muoio io, alternativa non c'è, ecco io auguro tutti quanti voi di farvi un bel fiume di lacrime, un bel fiume di piante, questa è proprio una tragedia, cioè la tragedia in cui è caduta la razza umana, c'è voluta la morte del figlio di Dio, cioè un evento per cui dobbiamo stare a piangere per tutta la vita, perché dobbiamo comunque piangerla, ma dobbiamo piangere, io la piango però, se non ci fosse stato, sarebbe stata la fine, questi paradossi della nostra fede, no? Allora, la morte di Gesù, quindi, che cosa è stata? allora la morte di Gesù è stata anzitutto espiazione, espiazione, prende su di sé che cosa? L'estrema conseguenza del peccato, attenzione, nella forma più atroce ed ignominiosa, perché muore carico dei peccati di tutto il mondo, cioè in quelle ultime 24 ore, tutto il male creato, perché proprio male creato, dalla libera volontà dell'uomo ogni volta che pecca, cioè che sceglie volontariamente il male, si è riversato su di lui, attenzione però, attenzione però, Gesù muore in questo modo violento, non meritandolo, non meritandolo, e chi c'era dietro la morte di Gesù? Vediamo un po', questo si vede bene nella passione di Mac Gibson, oppure per chi c'ha lo stomaco forte dai racconti di tanti esorcisti, il sabato sera durante la veglia stiamo leggendo un bel testo di colui che è diventato il successore di Padre Amort, ora il presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, che è Padre Vamonte, chi è che ha ucciso Gesù? Vediamo un po', sono stati i giudei? Forse, sono stati i soldati romani? Allora, l'uccisore di Gesù, lo dice lui, è il diavolo, nel film di Mac Gibson si vede benissimo, durante tutte quante le scene della passione, la flagellazione, come il diavolo stava lì a guardare, a controllare, perché tutti quelli che stavano operando, anche se evidentemente non lo sapevano, come non lo sanno gli uomini che quando peccano cascano nelle sue griffe, erano suoi cooperatori aizzati da lui, caricati da lui, per uccidere il figlio di Dio. Però c'è un problema, amici, che non solo in quanto Dio, perché questo sarebbe troppo facile, ma in quanto uomo, Gesù di Nazareth non meritava di morire, perché in lui non c'è né peccato originale né peccato attuale. Come ha spiegato nell'ultima cena, io adesso vado, viene il principe di questo mondo, l'ha detto Gesù, che l'ha ammazzato il diavolo, l'ha detto Gesù stesso, quando è uscito dall'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 16, guardate che io sto per andare, viene il principe di questo mondo, egli non ha nessun potere su di me, ma adesso lo avrà. Perché? Perché gli viene dato dal padre, perché è una trappola la redenzione, come diceva San Leone Magno, più di tutti gli altri padri della Chiesa. La redenzione è stata una trappola, perché il consegnare Gesù nelle mani dei nemici è stata un'isca, il diavolo stupido, l'ha ammazzato, e l'ha ammazzato, dicono i padri della Chiesa, perché non era sicuro al 100% che fosse il figlio di Dio. Era semplicemente un grande santo, un personaggio pericolosissimo da fare fuori. Perché se il diavolo fosse stato certo che era il figlio di Dio, essendo molto intelligente, ci sarebbe potuto arrivare che se avesse fatto una cosa di quel genere sarebbe stata la fine, perché perdeva il diritto sul genere umano. Allora cosa succede? il signore della morte uccide il figlio di Dio, evidentemente attraverso i suoi consapevoli o inconsapevoli collaboratori, ma qui a un certo punto allora che cosa succede? Abuso di potere, attenzione agli abusi di potere, gli abusi di potere ci hanno come maestro il diavolo, che è il grande abusatore del potere, giusto? e allora c'è un problema, dice, che cosa hai fatto tu? Tu hai fatto soffrire e ammazzato Gesù di Nazareth, gli dice l'Onnipotente, ma tu questo non avevi nessun diritto di farlo. E allora sai che succede? che chiunque invocherà questo nome sarà strappato dalle tue grinfie, gli esseri umani le meritano, le tue grinfie, lui non le meritava? E allora che succede? Siccome tu hai alzato la mano contro di lui, in quel nome ci sarà la salvezza, chiunque invocherà quel nome, quel sangue innocente, l'unico innocente, quella morte spiatrice che non avrebbe dovuto esserci, sarà sciolto dalle tue catene. Tu non avrai più nessun potere su quella persona. Capiamo? Questo è il meccanismo della redenzione e al tempo stesso, al tempo stesso, quella è stata, non so, una soddisfazione vicaria per tutti i peccatori. cioè la prevaricazione della razza umana su Dio fatta con il peccato doveva avere come riparatore chi? Uno che potesse offrire uno un sacrificio infinito, di valore infinito. Perché l'offesa a Dio di per sé è di una gravità infinita per la qualità del soggetto offeso. il peccato è un atto finito perché è fatto da una creatura come noi, ma il peccato offende Dio e Dio non è un ente finito. Dio è infinito. Allora ci vuole uno punto primo che ci abbia la stessa dignità del soggetto offeso. Ecco perché si doveva fare uomo Dio. Perché se Gesù Cristo per assurdo la Madonna dice ma la Madonna era immacolata non potevamo fare la Redentrice senza il Redentore? No. Eh no. 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 Perché la Madonna non essendo una Dea non avrebbe avuto in sé la stessa dignità del soggetto offeso. Per cui sarebbe stato un bellissimo sacrificio che l'ha dito al Signore perché era offerto da un'anima pura senza peccato ma non avrebbe avuto la capacità di salvare tutto il genere umano. Ecco perché la Madonna non è la Redentrice è la Co-Redentrice ed in funzione totalmente subordinata e dipendente dalla Redenzione di nostro Signore. Quindi un sacrificio di valore infinito preso offerto prendendo su di sé i peccati di tutto il genere umano entrando in una morte non meritata ed essendo offerto al Padre da un soggetto che è come noi quindi perché siamo noi che dobbiamo pagare per quella cosa ma è anche come lui ecco perché Dio ha fatto uomo questo perché comprendiamo che Dio è intelligente e che le azioni hanno delle conseguenze molto serie ora evidentemente la morte di Gesù ha trasformato ha trasformato il senso della nostra morte la morte rimane e rimane come condanna estremo del peccato come gesto di penitenza suprema ma dopo la morte di Gesù e la sua vittoria sulla morte è anche diventato passaggio da questo mondo da questo mondo al Padre momento di incontro e attesa della risurrezione finale che era la nostra partecipazione alla risurrezione di Gesù vorrei dire qui due cose due, tre quattro forse numero uno quello che diceva sempre Sant'Alfonso la morte è il gesto penitenziale estremo cioè noi in questo mondo ci abbiamo fondamentalmente cioè sapete che la penitenza si chiama anche mortificazione perché mortificazione perché si tratta di dare la morte di darsi la morte non è l'eutanasia ovviamente San Paolo scrive nelle sue lettere io ogni giorno affronto la morte non nel senso che lui ha rischiato tante volte di essere ammazzato ma non è che proprio ogni giorno c'era qualcuno che voleva ucciderlo ogni giorno affronto la morte vuol dire ogni giorno mi mortifico cioè anticipo la penitenza estrema della morte con quelle che volontariamente offro al Signore oppure offrendo con amore quelle mortificazioni che il Signore mi manda di tutti i tipi possibili immaginabili la fame la sete le offese da parte del prossimo il caldo il freddo il disagio di questo di quell'altro ora Sant'Alfonso Maria degli Cuori scrive non mi ricordo se in pratica di amare Gesù Cristo o in apparecchio o nell'apparecchio alla morte una delle due però mi ricordo un'informazione quindi la do che se un cristiano se un cristiano offre coscientemente la morte accettandole come sacrificio estremo cioè muore come atto di offerta e di volontà quindi consapevole dice Signore io accetto di morire nel momento in cui vuoi nella forma in cui vuoi devo soffrire devo morire di tumore lo accetto devo morire di vecchiaia lo accetto e questo ancora di più quando la morte si avvicina ecco perché voi non avete idea di quanto cioè il tema morte fa capire quanto proprio oggi siamo proprio lontani ma la stragrande maggioranza della gente ma che fa io sono parroco quindi chi le sa meglio di me queste cose l'ho raccontato ho detto infinite volte cioè io ho il sacramento dell'olio santo l'unzione degli infermi ma l'ho dato pochissime volte soppretta da quasi 20 anni avrò dato 40 volte l'olio santo 50 io non c'ho una grandissima memoria per cui spero di sbagliarmi ma io non credo che ci arriviamo a 50 vuol dire soppretta da quasi 20 anni la media di due volte l'anno il problema è che i funerali che ho celebrato sono una media tra i 20 e i 30 l'anno che significa il 10% scarso l'8 il 9 e questo perché sia a causa ma no io vedo in continuazione scene no quando una persona sta per morire l'unica preoccupazione dei familiari oggi è di togliergliene la coscienza cioè illuderlo che siamo ma che ma non è niente non ti preoccupare dopo vedrai che stai meglio e questo si scambia come gesto di affetto come gesto di amore e addirittura di compassione di misericordia verso il moribondo questo è un crimine è una specie di crimine uso un termine un pochino forte evidentemente non in senso stretto in senso metaforico e se quella persona non è pronta a morire la vera bontà e la vera misericordia sarebbe chiama il parroco fa qualcosa parlaci e fagli capire che forse sta arrivando il momento e tu ti devi preparare tu ti devi confessare cioè ci sono i sacramenti che si danno ai moribondi i sacramenti prima della morte sono tanti sono c'è la confessione possibilmente generale se uno non l'ha fatta prima poi c'è l'unzione dei malati un tempo chiamato estrema unzione poi c'è il viatico che è l'ultima comunione poi ci sono le preghiere di raccomandazione del moribondo quando veramente dopo aver ricevuto coscientemente questi sacramenti comincia ad avviarsi verso la fine se vogliamo aggiungere c'è anche la pratica devozionale che non c'entra con la liturgia da questo soprattutto operazione liturgica che ho detto adesso che è la coloncina di una misericordia così si muore un battezzato dovrebbe morire così gli chiede lui i sacramenti è lui che si prepara la confessione generale è lui che vuole con tutto il cuore ricevere il sacramento dell'unzione per essere pronto l'ultima comunione e da quel momento in poi comincia a prendere il crocifisso a me è successo qualche rara volta rarissima persone che prima di morire hanno fatto la confessione generale che pur avendo sofferto tanto hanno detto io da questo momento in poi comincio a chiamare il signore a dire vienemi a prendere gli avevo insegnato dico guarda che se c'è un crocifisso prendi questo crocifisso e bacialo più che puoi e sono morti così Sant'Alfonso dice che se si fa questo non si passa per il purgatorio lo dice lui io ci dobbiamo credere Sant'Alfonso non è certamente non ha parlato ex cathedra quindi non era il papa che parla ex cathedra però è insomma un santo di un calibro non indifferente ed è comunque dottore della chiesa io non credo che Sant'Alfonso si poteva avventurare in un'affermazione così forte se non avesse avuto qualche ottima ragione per averne una sorta di certezza morale ma del resto cioè non è tanto difficile comprendere io sto accettando la penitenza estrema che il Signore mi ha dato come conseguenza del peccato ho avuto il mio amico Francesco che è morto così io l'ho sentito con le orecchie mie dire alla madre poco prima di morire pochi giorni prima di morire io ero presente stavo lì guarda mamma che io avevo chiesto a Gesù che mi guarisse ma Gesù non mi guarisce non mi ha guarito e non mi guarisce e noi dobbiamo fare la sua volontà ed io sono pronto e tu ricordati che c'è un altro figlio testuali parole io l'ho sentita e c'è un particolare che c'è si fu poi una signora che portò la mamma di Francesco da Natuzza Evolo raccontiamo pure questa stasera era ancora viva ovviamente a suo tempo Natuzza che appena la vide disse oh la mamma di Francesco ovviamente non l'hai mai visto nel conosciuto la stava aspettando signora dice chiaramente e gli disse che Francesco era andato subito in paradiso qualcuno ci va subito in paradiso ma lo so io quello che ha passato Francesco con anno e come l'ha passato perché? perché aveva sofferto eroicamente senza lamentarsi e offrendo tutto e perché aveva accettato la morte voi pensate quale crimine alla luce di queste cose che si fa se si comincia a anestetizzare le persone io ho avuto persone che non mi hanno chiamato cioè che qualcuno gli ha detto ma chiama il prete fagli dare l'olio santo no 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 che carità non fa venire il prete che dopo questo si impressiona cioè io non si capisce che al senso io non sto giudicando io mi sto addolorando perché frasi di questo genere fanno capire dove siamo arrivati da un punto di vista di fine del cristianesimo fine della fede una volta sopra i letti dei parro c'erano due campanelli nelle case uno per il giorno e uno per la notte quello per il giorno si era invito perché se suonavo quello della notte il parroco partiva si metteva la talare che allora si metteva solo quella e andava a dare l'olio santo dovunque a qualunque quello del giorno e della notte a me tutta quanta la mia vita nonostante che io in continuazione dica ai fedeli guardate che mi dovete chiamare pure alle 4 del mattino per questa cosa qui ma due volte forse tutta quanta la mia vita sacerdotale mi è successo di alzarmi la notte per andare a dare l'olio santo e ringraziamo il signore forse sono stato pure fortunato mica penserete che non bisogna disturbare un prete è come il medico sotto questo punto di vista è chiaro che non è che puoi andare a chiamare alle 3 di notte perché devi parlare d'accordo o perché devi chiedere il certificato di battesimo perché dopo dopo uno ti butta alla finestra ma per l'olio santo o per l'assistenza si chiama a qualunque ora non ci sono orari e guai a quel prete che se lo chiamano non prende parte di corsa subito quando ti chiamano per questi motivi non devi aspettare neanche 30 secondi dovunque stai lasci tutto e vai perché la morte non è che ti aspetta questo per dire la prima cosa quindi la seconda riguarda il fatto che la morte è il sonno più lungo che ci facciamo in attesa della risurrezione giusto? chi è che si è inventato i cimiteri? che significa cimitero? cimitero in greco kiumiuterion significa dormitorio capite? i cimiteri per noi sono luoghi belli non sono luoghi macabri perché il cadavere attenzione al termine che uso il cadavere che non coincide con la persona ma il cadavere sta affrontando il sonno più lungo in attesa di ricongiungersi all'anima e quindi che facciamo? li facciamo bruciare a sti a sti cadaveri? tanto che vuoi che sia li facciamo bruciare i cadaveri? è una pratica cristiana no che non lo è io credo di averlo già fatto questo discorso non so se in questo ciclo di catechesi però se l'avessi già fatto è ripetita Juvent la cremazione non è una pratica cristiana un tempo era proibito il funerale canonico le esegue a chi sceglieva la cremazione adesso pensate che nel nuovo rito c'è addirittura la celebrazione delle esegue con l'urna cineraria io non dico niente insomma ma questa cosa nacque come dice vabbè ma non è detto che una persona che si fa cremare lo faccia in spregio del dogma della resurrezione come in tantissimi casi voi sapete che come dire gli atei e i miscredenti si fanno tutti cremare e spesso e volentieri anche spargere le ceneri si vede anche si vede anche in alcuni prodotti dello cinematografici o televisivi questa prassi tutti bruciati tutti quanti con le creme con le ceneri sparsi certo non è detto che un battezzato che faccia questo lo faccia magari dice sai non c'è soldi per pagarsi la tomba che ne so oppure è un momento che non c'è posto al cimitero che ne so potrebbero esserci delle motivazioni ma dovrebbero essere eccezionali ma che cosa succede come al solito come al solito ho scritto qualche giorno fa un articolo su come è stato possibile che nella chiesa cattolica si cominciasse a distribuire l'ostia in mano come eccezione no? come eccezione che va a legalizzare un abuso gen sorgente e adesso sappiamo tutti quanti come ci siamo ritrovati no? com'è la situazione in moltissime chiese quanto e tanti fedeli si lamentano di tante cose e adesso che facciamo? tutto quanto è nato come eccezione e adesso come sempre accade l'eccezione diventa la regola ma bruciare una persona oltre al fatto che io a pelle proprio non non saprei insomma dire cosa cosa nostro signore pensa sicuramente non è una cosa cioè da incoraggiare anche perché il defunto perde una marea di suffraggi possibili quelli legati a alcuni sacramentali che si fanno post mortem per esempio ogni volta che si si porta nei fiorellini uno fa una preghiera sulla tomba fa un eterno riposo diciamo un eterno riposo posso farlo anche a casa si si può spergere l'acqua benedetta come nel giorno in cui il sacerdote accompagna la sepoltura le liberazioni delle anime del purgatorio a chi gli interessa si vada a fare una cultura non soltanto con Maria con Natuzza Evolo ma chi la conosce anche con Maria sì ma vada a leggere cosa dicono le anime del purgatorio di quella carità che hanno chi va al cimitero e porta un po' di acqua benedetta a spergere le tombe vada a leggere o porta al cimitero una candela benedetta vada a leggere se tu lo bruci tutte quante queste cose non le avrà e queste cose sono di enorme sollievo per le anime purganti e se quel devunto sta in un purgatorio terrificante e profondo diciamo io gli faccio celebrare le messe speriamo ma se c'è qualche altro mezzo di suffraggio in più perché toglierglielo a priori dice ma l'ha deciso lui eh e anche qui se l'avesse deciso lui sarebbe compito dei dei familiari anche coinvolgendo magari il parroco perché no che stanno a fare questi parroci dentro le parrocchie di parlarci e di spiegargli tutte queste cose che io sto dicendo in modo tale che prima di farti bruciare ci pensi tre volte ma sapete qual è il problema il problema è quella nota scritta dall'allora prefetto della fede che era il cardinal Müller ancora vivente controfirmata evidentemente dal papa che adesso ci sono le nuove manie perché molti fanno bruciare i propri carri sapete perché si portano le cenerie a casa cosa che è proibita questa sì dalla legge della chiesa oppure qualcun altro si prende un mucchietto di cenere e si fa fare una bella medaglietta con dentro le ceneriche da portarla al collo quindi queste pratiche sono pratiche pagane sono pratiche umane sono pratiche sdolcinate che non servono a niente a niente se non a soddisfare la propria disordinata affettività così come tutte quante quelle commedie che vengono fatte al termine delle esegui nelle chiese che adesso ormai è diventata una prassi cioè un funerale ordinariamente non finisce se ancora dentro il luogo sacro non si vadano a fare delle montagne di come dire commemorazioni funebri che io ne ho sentite diverse a me mi piange il cuore capite da prete perché un defunto sentire quelle cose perché le sente non è che è diventato sordo sta piangendo quello lì perché quelle cose che quelle commemorazioni sdolcinate o quelle enfatizzazioni inopportune magari cioè di quelle non contano più niente per un defunto niente si fanno quelle cose e non si fa neanche la messa per l'ottava poi o per il trigesimo è tutto ridotto a emotività malata intramondana anche queste cose sono una sorta di tentativo di esorcizzare che quello è morto il morto non significa che non c'è più ma il morto significa che le frequenze su cui lo trovi dopo sorella morte sono quelle soprannaturali perché un morto se qualcuno di voi avesse la possibilità di entrare in contatto con una persona defunta vedrebbe che le frequenze della persona defunta sono altre non c'è più niente di umano inteso come legato alle piccinerie della vita terrena transeunte stanno in un altro mondo e noi dobbiamo imparare a relazionarci con loro con le categorie dell'altro mondo prega per lui porta gli sacramentari al cimitero fagli celebrare una montagna di messe se vuoi fare cosa buona carita a Dio non serve che fai le commemorazioni sdolcinate che tra l'altro queste sono grazie a Dio alcuni vescovi alcuni parroci almeno grazie a Dio terminano la messa escono sul sagrato portano i microfoni fuori e quantomeno distinguono questo aspetto perché capite quando questa prassi si va consolidando poi fermarla ci sta poi che ci scappa il morto non è più non è mica tanto semplice ve lo dico perché lo so la puoi semplicemente poi controllare ti puoi trovare dei modi che quantomeno come dire non vadano a intaccare la sacralità del rito io spiego guardate figli questo è un rito sacro e questo è un luogo sacro vuoi manifestare queste cose umane per carità va bene ma fuori del rito sacro non si può cioè non è una cosa che fa parte della messa fa parte l'omelia e poi ci sono dopo la comunione i riti di commiato religioso dal defunto che sono le preghiere per il defunto accogliete la sua anima e presentate al trono dell'altissimo e le ultime formule di raccomandazione cioè in chiesa ci si congeda in questo modo soprannaturale con il defunto poi se tu vuoi il congetto umano se ci tieni proprio tanto lo fai al momento e nel luogo opportuno ma questo è rarissimo che accada perché come tutte le cose purtroppo una volta che poi la parola si va avanti viene di fatto quasi accettata e stop bene direi che possiamo possiamo mettere un punto ricapitolando quello che abbiamo visto questa sera quest'ultimo punto è abbastanza importante cioè la morte di Gesù ha trasformato la nostra morte e la morte la morte deve essere vissuta come atto di fede per antonomasia sia dal candidato alla morte quindi da quello che la deve affrontare sia dal suo contorno perché altrimenti diventa cioè guardate che poi lo vedremo nel corso di 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 queste catechesi per se che una ria la morte preparata come come Dio comanda rischia la dannazione che non è un'eventualità ma sa vanno tutti in paradiso in purgatorio forse qualcuno che sarà proprio cattivo 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 va all'inferno questa è un'altra come dire manifestazione della mentalità dominante molto gradita ai diavoli chiaramente per così riempiono l'inferno ma a suo tempo io leggerò mica una duecento testimonianze che tra padri della chiesa e santi che hanno visto queste cose qui e che ne hanno parlato tra cui c'è la santa faustina l'apostola della divina misericordia che ha visto l'inferno e lo ha descritto e ha anche spiegato che c'è un sacco di gente quindi che non è affatto un'eccezione sai su mille che ne muoiono ma ci saranno tre quattro criminali che vanno all'inferno per il resto vanno in purgatorio in paradiso ma chi l'ha detto questo qui chi lo ha detto questo dove sta scritto dove sta scritto se non nella capoccia come dire di chi si ritiene di poter riscrivere la fede e la rivelazione a propria immagine e somiglianza e non trasmettendo quello che abbiamo ricevuto come scrive San Paolo per il bene delle anime va bene per oggi possiamo fermarci amici carissimi e ci aggiorniamo chiaramente se devo guardare la prossima settimana con una nuova puntata Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre a tutti e ovunque vi protegga